Allora, siamo con Giulia Emmolo, eccola qua con la medaglia, dalla Coppa hai già bevuto? Sì, ho già bevuto, ho già fatto tutto, alzata al pubblico, fantastico, una serata indimenticabile. Senti, una serata indimenticabile che ci ricorda un'altra serata indimenticabile, inevitabilmente, non è trascorso tanto tempo dallo scudetto, un'altra grandissima emozione, questa volta però è una Coppa Lenna, la seconda? La seconda, frutto di tanto lavoro, soprattutto nel momento di difficoltà, abbiamo dimostrato di avere carattere e di avere voglia ancora di dimostrare che ci siamo e che cresciamo. Ecco, in Telecronaca raccontavamo spesso quanto la testa in questo sport sia fondamentale e quanto la Mediterranea abbia tra le sue caratteristiche, senz'altro questa, cioè riuscite nei momenti di grande difficoltà a non buttarvi giù, anzi a riprendervi e caratterialmente a venire fuori. E questo vi ha aiutato tantissimo, spesso e volentieri, a risolvere delle situazioni molto difficili. Sì, diciamo che stiamo lavorando molto sotto questo punto di vista e ci stanno aiutando, ci sta aiutando Miscia a fare un lavoro di testa, di concentrazione e soprattutto di preparazione alla partita, perché in questo sport, in queste partite, la testa più del fisico fa arrivare alle vittorie. C'è una dedica speciale per questa Coppa? Al pubblico, fantastico, e alle mie due nipotine che sono l'amore della mia vita. Allora, veniamo di Marco Capanna, eccolo qua, ciao Marco. Insomma, un'altra straordinaria soddisfazione, come tutte le soddisfazioni, ci è voluta la forza, ci è voluto il carattere, ci è voluta la testa, come dicevamo prima con Giulia, però alla fine un risultato splendido. Splendido. La grossa soddisfazione per me è quella di vederle così contente. Il mio lavoro è quello di cercare di fargli dare quel qualcosina in più e di fargli credere che con le qualità che abbiamo possiamo arrivare primi, perché è diverso da arrivarci vicino. E questo gruppo sta arrivare primo, l'ha dimostrato di nuovo, un altro mattoncino sulle spalle della società che deve continuare a credere e a spingere per questo movimento, perché ne vale la pena. Ne vale la pena perché il pubblico era tantissimo, caloroso, è una cosa unica, penso, quella che sono queste ragazze. Volevo ringraziare tutte le persone che comunque qua questi giorni hanno aiutato e sono veramente tantissime. I primi stelle, la televisione, i bagnini, Brioglio, Antonio, il presidente, comunque ha costruito uno spettacolo che non si vede tante volte nella pallanuoto, ma secondo me è riuscito. E poi il mio pensiero personale va a Maurino, perché ci tenevo che vivesse un'emozione non troppo forte, ma positiva. Ha rischiato perché l'emozione è stata fortissima. Quella forte e negativa poteva essere rischiosa, invece questa è stata positiva e io continuo a essere fiero delle ragazze, ora hanno due giorni di riposo, iniziamo a pensare a Messina perché vogliamo fare bene. Infatti so che tu sei lungimirante, in questo pensi già a quello che deve venire perché non è finita qui, nonostante sia incredibile pensarlo, ma non è finita qui. Ci sono poi i playoff scudetto che si stanno avvicinando, quindi è vero adesso la festa, ma tutto un impegno importante per puntare evidentemente anche a qualcosa di notevole per i playoff. No, c'è la fase più difficile e più bella e incontriamo un avversario molto forte, organizzato, che ha fatto tanti acquisti, che ha ambizione, quindi sarà molto difficile. Però sono anche fiducioso che fra due settimane saremo ancora più forti di adesso e già quello che si è visto oggi è bello. È molto bello, grazie Marco, complimenti ancora, grazie mille. Una grande emozione, non è la prima naturalmente, questa fa il paio con lo scudetto, ho vinto lo scorso anno, contro sempre il Padova, che quest'anno però, diciamo la verità, vi ha messo in difficoltà durante il campionato, ma poi alla fine? Assolutamente, il Padova è una grandissima squadra, già l'anno scorso aver vinto lo scudetto a gara 3, il 5 a 4, l'ultima gara qua, e quest'anno di nuovo ci continuiamo a scontrare, quindi vuol dire che da entrambe le parti c'è qualità. Quindi bene, meglio, meglio per il campionato italiano, meglio per tutto, bene perché abbiamo dato un bello spettacolo, sono felice, il nostro pubblico non si smentisce mai, io adoro questo pubblico. Ecco sì, infatti, spegniamo proprio una parola, e no perché so che tu sei poi un po' portavoce anche, spesso e volentieri, spendi sempre parole importanti per il pubblico della Cascione. C'è da dire che Imperia risponde sempre alla grande quando ci sono questi eventi, e dobbiamo ricordare che la pallanuoto non è uno sport così abituato a questo tipo di pubblico in Italia, in alcuni paesi all'estero sì, ma in Italia no, è davvero qualcosa di straordinario quello che sta succedendo qui. Hai ragione te, diciamo che tutto questo ambiente si è creato nel corso degli anni, quindi pian piano siamo riusciti a conquistarci le persone, i tifosi, amici che sono venuti la prima volta, si sono appassionati subito perché erano tutti euforici. Quindi sono felice, li ringrazio perché è soprattutto grazie a loro che noi riusciamo a vincere queste partite, perché loro ce ne hanno quella carica in più, e sono felice anche per tutti i ragazzini che ci sono, perché per me lo sport è parte della vita, insegna e penso sia importantissimo e fondamentale. C'è una dedica speciale di Giulia per questa Coppa? Vabbè, alla mia famiglia, ma no, a tutta Imperia, questa Coppa la voglio dedicata a Imperia perché è giusto, se la merita, perché è una bella città e deve imparare a credere come noi abbiamo fatto in questa partita e quindi forza. Come prima si parlava con Marco Capanna, non è finita qui perché adesso ci sono i playoff Scudetto. Assolutamente, voglio lo Scudetto, lotteremo con i denti e con tutte le forze che abbiamo.